La Calabria è presente fino al 23 di giugno a Vino Forum, il più grande evento sul vino a Roma nella spettacolare location del Circo Massimo. Per affermare la presenza di un settore, quello vitivinicolo, che in questi anni è cresciuto molto in termini di qualità. Alla manifestazione dedicata al vino dell'Italia centrale e meridionale, la Regione Calabria, in sinergia con l'Arsac, ha messo in vetrina il meglio del settore vitivinicolo calabrese. Attraverso importanti iniziative di promozione, dal concours mondial di Bruxelles che abbiamo svolto a Renda nel 2022, ai Vinitaly in continua crescita fino a quello di quest'anno che ci ha rassegnato una delle migliori regioni in assoluto, al Vinitaly che svolgeremo a Sibari per la prima volta dal 30 agosto al 1 settembre, stiamo sostenendo questo settore che è in continua crescita e che consideriamo esemplare per l'ambizione della qualità che le aziende vitivinicole calabresi hanno avuto in questi anni, affidandosi ad enologi di rilievo nazionale ed internazionale. In un viaggio esperenziale attraverso i suoi vitigni storici e con il claim che sta caratterizzando il cammino della Calabria vitivinicola, dove tutto è cominciato perché la Calabria è la terra di Enotri e della Magna Grecia, una storia millenaria che viaggia sulle note speziate del Maglioc e del Gaglioppo e su quelle di frutti e fiori freschi del Greco Bianco. I risultati sono assai positivi, i nostri produttori già in questa fase dell'anno hanno quasi terminato le loro scorte di vini e hanno aumentato agevolmente i loro prezzi perché è aumentata la riconoscibilità del settore vitivinicolo calabrese. Grazie a tutti.